Eccoci qua, ho un bambino importante in braccio, un bambino da 50 milioni di dollari e non sono per niente nervoso, assolutamente, vero Luigi? No! Ok, andiamo verso l'aeroporto facendo finta di niente, se solo la gente qui fuori sapesse cosa stiamo portando è incredibile, è sempre incredibile, non ti riesci ad abituare a una cosa del genere è sempre una novità non c'è la routine quando trasporti un campione così importante il mio tesoro, il mio tesoro una voce sei impossessata di Paolo Attivissimo